Cresce il consenso intorno alla candidatura di Enzo Di Giacomo. Le liste civiche che proposero il suo nome ad ottobre scorso torneranno a chiedere di scendere in campo. Su Enzo Di Giacomo cresce l'attenzione dell'area civica e degli indipendenti per chi accetti la candidatura a presidente della Giunta regionale. Già nell'ottobre scorso proprio l'area civica aveva rivolto un primo appello al presidente del Tribunale di Senne perché si candidasse a governatore. Ora i rappresentanti delle quattro liste civiche che avevano invitato Enzo Di Giacomo a candidarsi a presidente della Giunta regionale si appellano di nuovo al magistrato perché riconsideri la sua decisione di rinunciare a candidarsi prendendo atto dell'ampia convergenza di forze politiche e sociali che hanno inteso designarlo al vertice della Regione. Così dopo che 13 tra liste di partite e movimenti politici avevano firmato giovedì sera un documento congiunto invocando la candidatura del giudice ora ci sono anche quattro liste civiche creare futuro di Antonio Tedeschi, coscienza civica di Massimo Romano partecipazione democratica di Simone Cosce e Peppino Astore e libera Termoli. In una nota le civiche prendono atto dell'ampia condivisione che è stata manifestata dalle forze politiche verso la candidatura del presidente Vincenzo Di Giacomo indicato mesi fa dai movimenti civici come candidato ideale in seguito considerato dalla società civile molisana idoneo a rappresentare la Regione Molise. Nell'esprimere il massimo riguardo per la sua dichiarazione di rinuncia alla candidatura i sostenitori fin dalla primora della sua invece candidatura gli rivolgono un nuovo invito a scendere in campo per guidare una coalizione ampia capace di fare ripartire il Molise.